Vi abbiamo presentato nel video precedente la diagnosi essenziale per stabilire la fattibilità ed attuare un reshoring. Questa ha rappresentato la parte superiore del nostro schema. Ora entriamo in azione e scopriamo la seconda parte dello schema. Prima azione possibile, riunire i fornitori, la produzione e i clienti. A titolo di esempio possiamo dare un'occhiata al tè Cusmi. Il tè Cusmi sta vendendo tè di fascia alta e realizza oltre due terzi del suo fatturato in Francia. Certamente le foglie di tè vengono dalla Cina, ma la produzione di lattine di metallo è stata rimpatriata in Francia dalla Cina, così come il confezionamento dal Marocco. Seconda azione, favorire prodotti standard a catalogo. Mentre decenni fa l'automobile era un prodotto su misura, Henry Ford ha lanciato l'autocatalogo, producendo in sede la Ford T, un solo unico prodotto. Ogni cliente può avere l'auto di qualsiasi color desideri, purché sia nero. Ovviamente le configurazioni per avere l'auto su misura sono tornate a essere molto vaste, ma non possiamo più immaginare di acquistare un'auto diversa da quella offerta nella gamma dei produttori. Terza via possibile, demercificazione del prodotto. Casa Gin è un marchio italiano di biancheria intima. Tutto, dalla lavorazione del filato alla tintura, è prodotto in Italia. L'etichetta made in Italy fa parte del valore di ciò che il cliente sta acquistando. Inoltre, i materiali rispettano l'ambiente, il richiamo alla natura e allo stile vegano. Casa Gin è un ottimo esempio di decommodizzazione applicata ad un prodotto molto comune. Quarta opzione, sbarazzarsi di stocchi inattivi. Sull'esempio di Toyota, da 30 anni, i produttori di auto hanno organizzato le loro produzioni con lo scopo di ridurre i tempi di consegna, vale a dire il tempo trascorso in linea di produzione, ma anche quello legato all'immobilizzo di giacenze. Più breve è il ciclo, maggior flessibilità e minori capitali impiegati. La quinta possibilità è quella di adeguare le scorte. Così L'Oreal immobilizza 13 mesi di fatturato, mentre l'industria automobilistica è due volte più efficiente. Valeo immobilizza solo 7 mesi del suo fatturato e Peugeot Citroen solo 6 mesi. Sesta possibilità. Qualsiasi prodotto, anche di fascia alta, dovrebbe utilizzare il più possibile componenti standard e multifornitore. Anche la Ferrari, salvo eccezioni, non usa viti e bulloni speciali. Settima traccia. Differenziazione ritardata. Prendiamo l'esempio di un deunitificatore. Confrontiamo diversi modelli emessi dalla stessa fabbrica, ma con marchio diverso. Le uniche differenze sono il pannello di controllo e il pannello frontale, che sono gli ultimi pezzi assemblati prima di imballare il prodotto per la spedizione. Traccia successiva, cioè l'ottava. Creare e soprattutto applicare uno standard di progettazione. Ikea, oltre ad aver demandato il montaggio dei mobili ai propri clienti, riducendo drasticamente i propri costi di assemblaggio, imballaggio e trasporto, ha realizzato un lavoro enorme per standardizzare il suo eccezionale design. Diametri dei fori, parti di assemblaggio, strumenti al minimo necessario per realizzare i kit che acquistiamo. La standardizzazione del design è un investimento molto produttivo a medio termine. Nona e ultima possibilità di azione, forse la più fondamentale. Approfittare del reshoring per ridurre i costi. Tutti i prodotti, indipendentemente dalla tecnologia e dall'età del loro design, possono essere ottenuti a costi inferiori, senza compromettere la qualità e senza compromettere la loro attrattiva per i clienti. Ad esempio, prodotti professionali ad altissime prestazioni integrano i connettori utilizzati nelle telecomunicazioni mobili. Ci auguriamo che vi sia interessato per approfondire il nostro schema di reshoring e vi suggeriamo di scaricarlo se non l'avete ancora fatto. Grazie mille!